Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Siamo a 7 km di coda in diminuzione tra Firenze Nord e Firenze in Pruneta, in A11 3 km di coda tra Firenze Ovest e Peretola verso Firenze, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Fippi Lipper lavori un chilometro di coda tra la Strassigna e Ginestra verso Livorno e rallentamenti tra Montelupo e Ginestra verso Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Anche per oggi è tutto, a domani, buon viaggio! Grazie a tutti!